Siero dato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, miei cari figlioli. Mi scuso con voi per un esordio abbastanza forte questa sera, ma ai toni forti, menzogneri, occulti ormai della falsa chiesa massonico e satanista governata da Bergoglio, bisogna rispondere con la verità dei fatti, senza aver paura peraltro. Vi ho mostrato una delle immagini che circoleranno nel nuovo messale romano, eccola qui, come sempre, ve la mostro di nuovo, è un'immagine forte, ne abbiamo parlato nelle sere precedenti, eccola qui, ve la rimostro, ecco, e vedete che c'è questo personaggio che si trova al centro vestito di rosso, con attenzione bene dieci pedine, dieci, diciamo, sagome vestite di nero, rosso e nero. Non sono mai stati abiti, colori particolarmente, diciamo, non so come dire, appropriati, anzi sono i colori del diavolo. Sopra trovate una vera e propria immagine di una messa nera, con al centro l'uomo vestito di rosso e attorno le donne che copuleranno sessualmente con lui nella messa nera che celebra il sacerdote di Satana. Allora mi hanno fatto osservare due cose di questo vergognoso ritratto iconografico che è ormai dentro al messale romano. Naturalmente tutti faranno finta di niente, se la vedano loro. Notate che intanto sono dieci. Qualche esorcista mi ha fatto sapere che non è un caso che siano dieci. Se voi li contate, le persone vestite di nero, tutte protese verso quello sacerdote rosso, vestito di rosso, che è il sacerdote di Satana, sono dieci, non dodici, non quattordici. Dieci perché dieci? Mi ha fatto sapere un esorcista, un esorcista mi ha fatto sapere che dieci è il numero del reinizio, quindi Satana che vuole ricominciare da capo. Però io invece mi sono accolto di una cosa inquietante che spero noterete anche voi. Guardate bene che tra queste dieci donne che circondano il sacerdote di Satana, incredibile pensare che questa foto, insomma questo dipinto va sul messale romano, ci sono tre donne che proiettono l'ombra. Quest'ombra però non è esattamente quella loro. Guardate questa alla mia destra, vedete che c'è un'ombra che proietta, ma non è la sua. Notate che ha la forma di un obelisco e sapete tutti voi molto bene che cos'è l'obelisco, spero, è uno dei simboli della massoneria. Ormai è guerra aperta, fiolicari, ormai è guerra dichiarata. Soltanto chi ha deciso di starsene con la farsa chiesa massonico satanista, domenica, dopo domani, andrà a messa. Prima domenica di avvento, nel contesto della novena dell'Immacolata. Ognuno davanti a Dio, di fronte al quale renderemo conto, come dice San Paolo, ciascuno delle proprie opere, davanti a Dio si assume le proprie responsabilità. Bravo o brava chi scrive, non ho visto chi l'ha scritto, non ho avuto il tempo, chi scrive che sono sei le ombre, sei il numero di Satana e che rappresentano in qualche modo anche le corna del diavolo. In ogni caso, se ci danno del fondamentalismo, io dico replicando, ma vi pare normale mettere in un messale, che è il libro ufficiale delle preghiere della chiesa, una foto come questa, un dipinto come questo? E non è che le altre siano tanto migliori. Ve ne voglio mostrare qualcun'altra. Guardate questa, per esempio, questa si trova pura nel messale romano, è quantomeno enigmatica. Guardate, qui c'è come una sorta di mostro alla mia destra che, diciamo, minaccia i piedi, insomma, e c'è questo schizzo che parte dai piedi, che sembra una specie di piccolo marziano, ma che ci stanno a fare queste immagini? Chi è questo personaggio circondato da un cerchio oscuro? Sono immagini che veramente solo i ciechi non si accorgono che c'è qualcosa che non quadra. Ecco, bene, allora, questa sera, miei cari figlioli, noi concludiamo il ciclo di catechesi. Vorrei raccoglierle, ma io non ho il tempo di farlo. Magari qualcuno di voi, anche al nord, che voglia interessarsi di farlo, raccogliere questo ciclo di catechesi e farne un piccolo volumetto per aiutare la gente poi a capire come stanno esattamente le cose. La catechesi di questa sera è quella conclusiva, per cui si intitola Ridievi conclusivi. Allora, ricapiamo tutto e traiamo le conclusioni di queste nostre considerazioni ineccepibili. Ho visto qua e là su Radio Domina i commenti al mio parlare circa queste cose qui. Per esempio, qui c'è da dire che le immagini chiaramente sono misteriose, non chiariscono nulla, ma ci sono quelli che insistono dicendo che sono io che parlo con odio, ma vabbè, comunque sia, contra factum non valet argomento. Ma allora io stasera ricapitolo un po' le cose che abbiamo dette, le ripropongo sinteticamente e quindi traggo le conclusioni. Da domenica prossima, 29 novembre, prima domenica di avvento, entra in vigore l'edizione aggiornata del messale romano di Paolo VI, uscito dalla riforma liturgica disastrosa e pilotata del Concilio Vaticano II. Il messale porta la data del 1970, esattamente 400 anni dopo il messale di San Pio V, quello del 1570. San Pio V aveva detto che non bisognava toccare quel messale, pena la scomunica, late sentenzie. Questo messale di Paolo VI, che norma la liturgia eucaristica del poste Concilio, non è la prima riedizione del messale, quella che andrà in vigore domenica prossima. Anzi, qui, io l'ho detto, sono solo, ripeto, cose che ho dette in queste sere, ma era necessario fare adesso una sintesi e tirare le somme. Sembra proprio, fiolicari, che l'inquietudine con cui periodicamente si suggeriscono nuove tradizioni, scusate, nuove traduzioni e aggiustamenti sia frutto, secondo me, è quello che io penso, della banalizzazione con cui la riforma liturgica del poste Concilio ha cancellato, per sempre loro credono, la ricca, solenne e intangibile tradizione della messa tridentina. Di fatto, il messale di San Pio V, promulgato nel 1570, in diverse centinaia centinaia di anni, ha avuto scarsi e infrequenti aggiustamenti. L'equipe di liturgisti, capeggiati da Monsignor Bugnini, affiliato alla massoneria, più sensibile, ha lavorato per costruire in concreto una nuova messa più luterana che cattolica. Cioè, non c'è dubbio che, mentre nel messale di San Pio V abbiamo una messa cattolica come sacrificio di Cristo sulla croce, il messale di Paolo VI propone una messa più luterana, dove prevale il tema della cena. Dunque, il criterio funziona così. Noi, come messali, il messale è il libro di preghiera ufficiale per celebrare la Santa Messa. Fino a San Pio V non esisteva un unico libro di preghiere, ma i sacerdoti ne adoperavano diversi. Invece San Pio V ebbe questa geniale intuizione di riprendere le direzioni di San Gregorio e di creare un messale nel contesto del concilio di Trento che volesse per tutti. E questo è uscito nel 1570 e San Pio V aveva detto che nessuno avrebbe dovuto toccare quella messa appena la scomunica. Invece Papa Paolo VI nel 1970 promulga, e qui che dobbiamo considerare questo anno 1970, va bene, nel 1970 Paolo VI autorizza la pubblicazione del nuovo messale romano, cioè quello di San Pio V viene accantonato, viene promulgato e pubblicato un nuovo messale come dizio tipica, quella in lingua latina, quella in lingua latina. Siamo nel 1970, ma siccome nel frattempo viene anche abolito il latino, allora ecco che nel 1973, l'anno della mia nascita, quindi 47 anni fa esattamente, viene promulgato in Italia, ad opera della conferenza episcopale italiana, viene promulgato il primo messale in lingua italiana, 1973, con scelte assolutamente già nel 73 discutibili e problematiche, la più importante delle quali riguarda il tema delle parole della consacrazione. Nel testo latino dell'edizio tipica del 70, in perfetta aderenza al messale di San Pio V si dice, a proposito del calice, del sangue di Cristo, promultis effundetur, cioè effuso per molti letteralmente. Nel messale in lingua italiana, il primo messale in lingua italiana del 1973, avviene una manipolazione clamorosa. Ci sono quelli che dicono che l'anticristo arriverà quando saranno cambiate le parole della consacrazione. Figlioli, cari, non fate gli idioti, lo dico soprattutto a chi è ammalato del lunacum, non fate gli idioti, vi prego, non abbiatela con me, riflettete sulle cose che diciamo. Perché le parole della consacrazione sono state già cambiate nel 1973, quando il promultis effundetur, nell'edizio tipica del messale di latino del 1970, nel 1973 i vescovi italiani lo traducono con versato per tutti. Cambia il promultis che diventa per tutti e cambia il verbo e fundetur diventa versatur, versato. Allora c'è già allora un cambiamento della consacrazione, delle parole della consacrazione. Quindi a tutti quelli tra i unacum e i mistici e le mistiche che fate in giro di tutto per far credere che la messa è ancora valida, perché le parole sono ancora valide, sono ancora quelle. Vi dico che in realtà siete diciamo inconscienti, perché effettivamente, fioli cari, nel 1973, era questo che mi premeva dire a conclusione ovviamente di queste catechesi sulla nuova edizione del messale romano, che entrerà in vigore domenica prossima nella falsa chiesa, in realtà le parole della consacrazione sono state cambiate già nel 1973. Il termine greco polius, che viene preso per tradurre come tutti, in realtà in greco polius è lo stesso problema del glorie necelsis, come abbiamo visto in queste serate, e del non ci abbandonare. Non è aderente al testo greco, perché polius significa numeroso, in gran numero, e non c'è in nessuna delle possibili interpretazioni il termine tutto o tutti. Ecco, polius polios non c'ha la determinazione tutti, ma molti. Questo è molto chiaro, perché in greco tutto si dice pas, che significa tutto, intero, totale. Nel testo greco, che qui ho io con me, vedete, ve lo mostro con i caratteri greci, eccolo qui, ce l'ho davanti, quindi non si può discutere su quello. Non c'è il termine pas, c'è il termine polius. In Matteo, per esempio, 26, 26, 28, le parole della consacrazione dicono appunto per i pollon, pollon, cioè polius vuol dire per molti. Allora invece i vescovi italiani hanno tradotto inspiegabilmente, cambiando quindi le parole della consacrazione, perché lì sono le parole della consacrazione, cambiando le parole della consacrazione da per molti a per tutti. Quindi attenzione che già le parole della consacrazione sono state cambiate da 47 anni. Lo dico a quelli che aspettano ancora il cambiamento della consacrazione e sono già cambiate, è sotto gli occhi di tutti, ma naturalmente questo non viene sottolineato. Lo faccio con coraggio io, che per anni ho celebrato la messa Novo Sordo di Paolo VI con l'espressione versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Naturalmente io potrei domandarmi, ma allora le mie messe non sono state valide? Sacerdoti, che avete paura di venire fuori. Guardate il coraggio del vostro confratello Dominutella, è possibile che non siano state valide? Non lo so, non me ne importa nulla saperlo, so che adesso sono approdato la verità. Lo dico perché un disgraziato oggi si è infilato su Radio Domini e ha scritto sta zitto tu che hai celebrato tanti anni con la messa Novo Sordo. Io ho detto vergognati, perché dovresti apprezzare il coraggio della verità. Appena io ho scoperto che le parole sono cambiate, io me ne sono andato con la messa Vetu Sordo, capito? Perché non sono esatto... Allora io mi posso domandare ora, ma non rispondo a questa domanda, e quindi non è avvenuta la transustanziazione? Non è una domanda alla quale intendo rispondere? Non me la pongo, lascio fare addio, so che oggi io celebro la messa con le parole esattamente che Gesù ha espresse, perché nella prima edizione in lingua italiana, il messale del 1973 aveva già cambiato le parole della consagrazione. Benedetti figlioli del Lunacum, anziché venirmi con le dita negli occhi, andate a verificare se mi sbaglio, voi che fate i mistici e le mistiche e dite che ancora Gesù è presente in questa falsa chiesa perché non cambiano le parole consagrazione. Le parole consagrazione sono state cambiate nel 1973, versato per tutti non traduce il testo greco. Ora ci sono preti molto abili, una persona oggi mi ha scritto sa donne, mi hanno molto appassionato le sue catechesi sulle cose che sta dicendo in queste serate a proposito della nuova edizione aggiornata del messale romano e sono andato da un prete e ho detto a questo prete, padre non so se conosce Don Minutella, ah sì l'ho scomunicato, poi ha detto, volevo dirle che il padre in questione, cioè Don Minutella, ha spiegato in una di queste catechesi recenti sul nuovo messale che l'espressione, attenti bene, guardate quanto sono, scusate devo dirlo, farabotti e andate a cercare che cosa significa esattamente, e gli dice ma il Don Minutella ha spiegato che non ci abbandonare nella tentazione non traduce esattamente il testo greco e latino, soprattutto il testo greco, sapete questo abile farabutto che cosa risponde? Ma Gesù parlava in aramaico, mica in greco, quindi dice lui non possiamo mai sapere come esattamente Gesù ha pregato il padre nostro, attenzione a questi preti, sono peggio del diavolo e coi forchettoni se giandate dietro vi spediscono in inferno, infatti il testo greco di Matteo è, come ho spiegato a questa persona, normativo, normativo e canonico, significa che quello è il padre nostro e che Gesù in aramaico non può avere pregato un padre nostro diverso da quello che per ispirazione dello Spirito santo Matteo inserisce nel suo Vangelo, lo capite questo? Perché se vi ricordate in una delle mie catechesi vi ho mostrato quello che diceva Don, no Don, Vito Mancuso che è costretto a dire non sbagliano quelli che ancora continuano a pregare non ci indurre in tentazione perché il testo greco è esattamente questo, però poi aggiunge ma Gesù parlava in aramaico quindi noi non possiamo sapere che cosa diceva in aramaico, no, noi certamente non lo possiamo sapere ma Matteo quando riporta il padre nostro quel testo è normativo, norma normans e non normata, non si tocca, chi viola la parola di Dio commette peccato di profanazione e Gesù non può in aramaico avere pregato un padre nostro diverso da quello che Matteo riporta, altrimenti il Vangelo è inaffidabile e diventa affidabile Bergoglio, Bassetti, Casper, Enzo Bianchi, padre Spadaro e tutti questi accoliti della sinagoga di Satana, se li seguono, se li seguono vedranno dove si ritroveranno. Ecco, quindi la questione, figlioli cari, come vedete è molto seria, ma ormai siamo al cappio al collo, cioè con questa messa che da domenica verrà celebrata, siamo in presenza di una vera e propria profanazione della parola di Dio, che poi, come vi ho spiegato, fanno i disgraziati. Fatele circolare queste cose, almeno tra di voi, perché rimaniate nella verità cattolica, ve ne prego figli miei cari, Don Minutella prega tutti voi, rimanetevi nella sana dottrina cattolica, guardate la loro operazione, cambiano il gloria, cambiano la preghiera eucaristica seconda col tema della ruggiada. Vi ricordate, ne parlavo ieri sera, ho chiesto in giro se ero stato chiaro, sono contento che mi abbiate scritto, perché io a questo ci tengo molto, che quello che dicevo era stato abbastanza chiaro, ma vorrei ripeterlo. Vi ricordate che dicevamo che nella preghiera eucaristica seconda si dice spiritus tui rore santifica, santifica con la ruggiada del tuo spirito, ma avevamo spiegato che nel terzo secolo non era ancora possibile avere una teologia dello spirito santo e che pertanto Ippolito di Roma, in quella preghiera eucaristica che spiegabilmente Bugnini aggiunge al canone romano, ma quando invece nella messa tradizionale resta solo, grazie a Dio, il canone romano, dice quelle cose lì perché non ha una teologia dello spirito santo. E allora che cosa fanno adesso con il nuovo messale? Siccome nel messale del 73 un po' con un po' di buonsenso si era detto non si può dire la ruggiada dello spirito santo, perché lo spirito santo è la realtà, la ruggiada è un simbolo, quando arriva la realtà diceva Mirse Eliade non serve più il simbolo, lo spirito santo è realtà, allora togliamo via la ruggiada e infatti finora si era detto almeno, almeno tentando di salvare un po' la dignità e la faccia con l'effusione del tuo spirito, con l'effusione del tuo spirito, che è un tema biblico, la pentecoste, l'effusione dello spirito santo. Invece da domenica si ritorna alla ruggiada del tuo spirito, dicono i liturgisti, guardate quanto sono ipocriti, menzogneri e diabolici. Uno domanda ma perché ritornate alla ruggiada? E loro rispondono ritorniamo alla ruggiada perché, dicono i liturgisti, è più aderente al testo latino originario. Peccato però che col padre nostro e con il gloria non utilizzino lo stesso criterio ma interpretano. Allora quando dicono e vogliono loro interpretano persino il padre nostro, quando invece a loro fa comodo rimanere fedeli e aderenti al testo originario, rimangono fedeli al testo originario. Sono degli adepti di Satana, lo dimostra benissimamente l'immagine che vi ho mostrato all'inizio. Allora, miei cari figlioli, tra l'altro si scopre che secondo il teosofo Georg von Wehling l'acqua spirituale, a proposito della ruggiada che torna, il principio di tutte le cose, scende sulla terra come ruggiada raccolta dal sole e dalla luna. Sulle sue teorie, ringrazio un po' il giornalista Cionci che ha pubblicato, non so se lui sa che io lo prendo a prestito e spero che non gli dispiaccia, ma ha fatto un ottimo studio pubblicato sul libero quotidiano sul tema della ruggiada come simbologia massonica, occulta. Dunque, sulle sue teorie di questo tale von Wehling si basa l'oscura società pre-massonica dei Rosa Croce, per i quali la ruggiada è addirittura il nettare divino. Per il filosofo ermetico Anton Kierkwerger, amato dai pietisti luterani e dal massone Goethe, il flusso dello spirito cade sul mondo come ruggiada e così spiega il moto circolare della natura. Il suo di cari, per dirla chiaramente, solo i ciechi e gli idioti non si accorgono che questa falsa chiesa è governata da Satana e prepara la via all'anticristo. Dispiace vedere non solo la gente che è ignorante e magari si salva, ma questi una cum alla Don Morselli sono nei guai perché difendono queste cose qui. Guardate cosa scrive nel 1744 il massone Conte di Marsciano, la ruggiada nostra, la materia nostra è insieme celeste, spermatica, ruggiadosa, elettrica, virginale. Il Conte possedeva la Scarzuola, antico convento di San Francesco, poi trasformato in città ideale massonica nel 1957 dall'architetto massone Tommaso Buzzi. Che vi fossero pseudo-interpretazioni in chiave ecologista e alchemica del devoto amore per il creato che oggi viene fatto passare con San Francesco della Fratelli Tutti è una cosa che, come scrive il giornalista, bisogna indagare. La ruggiada infatti va raccolta nelle tiepide notti di primavera perché lo spirito verde della terra è più potente, come scriveva l'alchimista Heinrich Kunrat. Ancora negli anni 70 l'ultimo alchimista francese Armand Barbeau raccoglieva la ruggiada con lenzuoli per farne vari intrui. Quindi ognuno poi tragga quello che ne vuole. Sul pane e sul vino viene evocato la ruggiada del tuo spirito. Quale ruggiada e quale spirito. Allora, ecco, in questi giorni io su Radio Domina Nostra ho tenuto questo ciclo di catechesi che stasera si concludono con numeri di ascolto tra l'altro del tutto gratificanti e nonostante un'ampia, diciamo, competizione, perché da più parti adesso c'è Carinal Burke che parla in diretta e poi c'è Padre Livio su Radio Maria, Don Leonardo Maria Pompei sta parlando, quindi c'è proprio una competizione. La nuova edizione del messale romano di Paolo VI. Mentre a noi non ci riguarda affatto perché noi, come ho detto, ci siamo gettati sulla scialuppa di salvataggio e tutti facciamolo della messa cattolica quella vera di San Pio V, però ci è servita per dichiarare come in modo ormai del tutto aperto la loggia massonico satanista, capeggiata dal falso Papa Bergoglio, stia sferrando l'attacco finale all'identità cattolica. Questo messale, cominciamo a trarre le conclusioni, è l'attuazione ufficiale, ecco, qui mi pare molto importante, questo messale che da domenica entra in vigore ancora più degli altri è l'attuazione ufficiale di quella falsa chiesa che San Pio da Pietrelcina sicuramente a conoscenza del terzo segreto di Fatima profetizzava nel 1960 ad un giovane don Gabriele Amort. Lo sai Gabriele, ha detto padre Pio, riportate queste parole dallo stesso don Amort, è Satana che si è introdotto nel seno della chiesa e in poco tempo verrà a governare una falsa chiesa. Il nuovo messale, al di là degli sterili entusiasmi della corrente progressista e dell'incredibile e ingiustificata assoefazione degli Unacum, è il, e con la seconda considerazione, il secondo rilievo conclusivo, è il documento programmatico, starei per dire, di questa falsa chiesa governata da un falso Papa e che non ha nulla più a che fare con la chiesa cattolica apostolica romana fondata da nostro Signore Gesù Cristo e retta da Benedetto XVI, il vero Papa. In particolare, e qui c'è adesso una sintesi breve che vorrei farvi, nelle seguitissime catechesi di queste sere ho sottolineato la strumentalizzazione massonica delle novità introdotte nella nuova edizione del messale. La prima sera, lunedì scorso, 23 novembre, dopo un'ampia introduzione, spero ve lo ricorderete, per me molto importante, circa l'insostituibilità del latino come unica lingua liturgica della Chiesa di Roma, perché questa possibilità di tradurre e di inventarsi le traduzioni che diventano vere e proprie manipolazioni del testo sacro sono possibili perché si è permesso di sostituire il latino con le lingue volgari. E questa è una cosa a cui non era arrivato neanche il Concilio Vaticano II, che al dirla tutta non aveva neanche proposto di accantonare il latino. Ecco, ho trattato dell'aggiunzione, a proposito della prima novità, del confiteor, del termine sorelle accanto al termine fratelli, cioè da domenica prossima i poveri disgraziati che vanno ammessa nella falsa Chiesa diranno, confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli e sorelle. Ecco, dimostrando la bizzarra scelta dell'inclusività dal momento che fratres il latino di fatto indica tutti, allo stesso modo come ancora oggi si dice uomini talora per indicare sia uomini che donne. E quindi fratres comprendeva anche le sorelle. E sottolineando, se vi ricordate, caso mai, questo lunedì sera, che l'aggiunzione di sorelle in realtà costituisce una clamorosa debacle da parte della Chiesa bergoiana sempre così attenta all'agenda arcobaleno. Se infatti, non so che fine farà padre James Martin oppure Don Mauro Leonardi, se infatti si aggiunge il termine sorelle, perché nel confiteor, a proposito dell'inclusivismo, non si deve aggiungere anche gli LGBT e gli omosessuali? Un tradimento imprevisto, una clamorosa svista da parte dell'equipe bergoiana. Martedì sera, poi 24 novembre, ho trattato della novità relativa all'inno angelico, il gloria in ecelsis. In particolare l'espressione paxo minibus bone voluntatis, che San Girolamo, esimio e primo traduttore del Vangelo dal greco in latino, rende dal greco eudochia e che la nuova edizione traduce liberamente e inspiegabilmente, inventandosi la tradizione con gli uomini che Dio ama, facendo così diventare eudochia un termine relativo a Dio e non più agli uomini che Dio ama. Traduzione quindi non aderente al testo, né greco né latino, pretestuosa, l'attrice della eresia misericordista e sincretista, senza alcun legame con il testo greco come stavamo dicendo. Una pretesa da parte della sinagoga eretica, bergoiana, camuffata come menzogniera, esigenza di fedeltà nella traduzione e che nasconde invece, come detto, l'idea eretica nel gloria, nel cambiamento del gloria, di un Dio che elargisce la grazia indiscriminatamente, senza però chiedere la risposta dell'uomo, proprio come Lutero pensava, il sola grazia, che è tanto caro a Bergoglio, al misericordista Bergoglio. Eppure, nonostante la nuova traduzione sia presente da tempo nelle Bibbie moderne, il bone voluntatis di San Girolamo nella Vulgata rimane a tutt'oggi, fioli cari, attenti bene, rimane a tutt'oggi la migliore e fedele comprensione del termine greco eudokia, che significa letteralmente compiacenza. Mercoledì 25 novembre ho ritenuto di dover tenere la catechesi per me più impegnativa, quella relativa al cambiamento del Padre Nostro, che da domenica ufficialmente rentrerà in vigore nella falsa chiesa. Tante volte è annunciato questo cambiamento e da tempo inserito nelle nuove Bibbie. Ho dimostrato che non abbandonarci nella tentazione è anch'esso ancora una traduzione ingiustificata, niente affatto aderente al testo greco, che riporta il verbo greco eisfero, che significa introdurre, e che Girolamo giustamente traduce in maniera aderente, con il verbo latino inducere, in moto a luogo, dicere, condurre, quindi introdurre, condurre dentro. In nessun vocabolario greco il verbo eisfero riporta la traduzione abbandonare, da dove caspita venga fuori, questo non ci abbandonare nella tentazione, nessuno lo sa, nessuno lo sa, fioli cari. Quindi c'è un antipadre nostro, come ho dimostrato. Da domenica ci sarà un antipadre nostro. Guardate che mi sono sfiancato per fare questo lavoro in questi giorni, pregate per me. Con l'ingresso, domenica prossima, della nuova traduzione, di fatto nasce ufficialmente, perché è introdotto nella liturgia, un falso padre nostro, un antipadre nostro, per nulla, aderente a quello che Gesù ha insegnato nel Vangelo di Matteo. Nessuno, come abbiamo detto mercoledì scorso, peraltro, può cambiare la parola di Dio, pena, la scomunica, a causa del peccato di profanazione. Per essere chiari, cambiare il testo sacro, il Vangelo, che è normativo, appunto norma, norma, anse non normata, come sta avvenendo con la nuova edizione del Messale, che cambia sia il Gloria, che, e nella fattispecie del Padre nostro, è una profanazione grave quanto quella dei delitti eucaristici. La nuova versione, non ci abbandonare, inaugura l'antipadre nostro, come c'è un antipapa, il falso padre nostro, come c'è una falsa chiesa, un falso papa, un falso Vangelo, una falsa dottrina. È il trionfo della costruzione ideologica e menzognera della falsa chiesa, che ormai chiaramente segue un altro Vangelo di un altro nuovo Messia, che è Bergoglio. Gesù ha insegnato il Padre nostro così come lo abbiamo conosciuto, figli e cari. Questo è un passaggio ancora ulteriormente importante. Il cambiamento è un passaporto per quanti vogliono introdursi nell'apostasia della fede, capeggiata da Bergoglio, promossa dai vescovi italiani quasi del tutto massoni. Qualcuno che non vi fa parte è appena fuggito in Marocco. Da perfetti neoluterani. Ci sono alcuni preti che dicono, ve lo dicevo poco fa, che Gesù parlava in aramaico e che quindi il testo di Matteo che preghiamo è già una traduzione in greco. Costoro sono asini che ragliano l'eresia. Il Vangelo è norma, normans non normata ed è ispirato dallo Spirito Santo. Il Padre nostro che l'Evangelista Matteo riporta non può essere in una direzione opposta a quello che Gesù pregava in aramaico, altrimenti lo Spirito Santo non sa far bene il suo lavoro. Dire che non sappiamo, come dicono questi preti allo sbando, che non sappiamo come Gesù lo pregava il Padre nostro, significa svalutare il carattere normativo e vincolante del testo sacro. E questo è un errore imperdonabile. Infine, ieri sera, 26 novembre, ho trattato della questione ritenuta del tutto pacifica ormai incredibilmente dai circoli degli Unacum che messi con le spalle al muro reagiscono con violenza contro il sottoscritto, come se il problema fossi io. Si tratta del simbolo della rugiada, come vi dicevo. Ho potuto dimostrare ieri sera, lo ribadisco per l'ennesima volta, che la menzione della rugiada è presente nella preghiera eucaristica seconda, attribuita a Sant'Ippolito di Roma, vissuto nel secondo secolo, quando ancora non esisteva alcuna riflessione teologica sullo Spirito Santo come realtà ipostatica, cioè come persona divina. Soltanto nella seconda metà del quarto secolo, quando ormai era acclarata la questione circa la natura divina e umana di Gesù Cristo, i padri della Chiesa hanno cominciato a trattare dello Spirito Santo. Lo studio recente, per esempio, che ho qui alle mie spalle del teologo dominicano Yves Congar, che non è certo passibile di appartenere al mondo tradizionalista, ha dimostrato che solo con i padri cappadoci, San Basilio Magno, San Gregorio Nazianzeno e San Gregorio di Nissa, in particolare con San Basilio Magno, si comincia a parlare dello Spirito Santo come persona divina. Prima si opta per i simboli e le metafore compresa la rugiada. Al concilio di Costantinopoli del 381, quando poi nel credo si aggiungerà la postilla credo nello Spirito Santo che è signore dalla vita, San Gregorio Nazianzeno abbandona l'aula conciliare quando vede i padri tergiversare sulla possibilità di proclamare nel credo che lo Spirito Santo è persona divina come il padre e come il figlio. La teologia tardopatristica, poi medievale, infine moderna, ha potuto approfondire, soprattutto in Oriente, la natura divina della terza persona divina e le sue molteplici operazioni. Ora, quando Monsignor Bugnini e l'equipe di riformisti decidono di boicottare l'unicità del canone in modo frettoloso, seduti al bar, come testimonierà uno di loro, scelgono di introdurre nel messale romano la preghiera eucaristica di Sant'Ippolito, che proprio perché è anteriore alla questione teologica circa lo Spirito Santo, usa il simbolo appunto della rugiada. Nell'edizio tipica del messale romano, quello del 1970 in lingua latina, si trova il testo originale latino che recita spiritus tui rore santifica, letteralmente santifica con la rugiada del tuo spirito. Questo nel messale tipico in lingua latina. Ma quando si è trattato nel 1973 di pubblicarne la traduzione italiana, con una dose di buonsenso, alcuni vescovi italiani, Dio li benedica, hanno fatto notare che il riferimento simbolico alla rugiada non aveva più alcun senso, dal momento che la realtà, finalmente del tutto chiara, circa lo Spirito Santo lo sostituisce. Come mai Bugnini, massone affiliato, va a pescare come preghiera affiancata al canone romano quella dove si dice rugiada? Perché rugiada è una terminologia cara alla massoneria. Era il tentativo già negli anni 70 di introdurre l'apostasia nella liturgia. E infatti nell'edizione del 1970, fino a domenica prossima, la traduzione è stata, io l'ho celebrata tante volte così, santifica con l'effusione del tuo Spirito. In questo modo, dal 1973 fino a domenica prossima, scompariva quel riferimento tanto desiderato da Bugnini, massone, alla rugiada e più opportunamente si decideva di introdurre il tema biblico dell'effusione che chiaramente si riferisce nell'epiclesi consacratoria alla pentecoste e al dono dello Spirito Santo. Ora invece, con l'edizione che entrerà in vigore domenica prossima, si torna nuovamente alla rugiada e si abbandona il riferimento biblico all'effusione. A parte la funambolica corsa all'ascera doppia, dopo 50 anni, la CEI ripropone il tema della rugiada come esigenza, dicono loro, di fedeltà al testo latino, accantonando così le messe fin qui celebrate senza la rugiada. Niente di più ipocrita, ma anche per noi niente di più utile. Quando si tratta della rugiada, infatti, costoro avvocano la fedeltà al testo originale latino, contraddicendo però il medesimo criterio quando si tratta di rimanere fedeli al testo greco e latino del Padre Nostro e del Gloria. Un principio di traduzione deve essere sempre rispettato da tutti e ovunque. Invece, nel caso citato della rugiada, si assiste ad un'operazione menzognera dove la traduzione è solo il pretesto, come ho dimostrato, per operare un cambiamento, ignorandolo tale pretesto quando non torna utile, come nel caso del Padre Nostro. Per essere chiari, la rugiada ritorna perché bisogna essere fedelti al testo originale. Peccato che il Padre Nostro cambia quando nella fedeltà al testo originale abbiamo sempre detto non ci indurre in tentazione. La gente, miei cari figlioli, ovviamente ignorerà queste abili manovre talmente sottili da mettere il casco di pompieri ai preti una cum. Essi non smettono di dire, mentre l'edificio va in fiamme, che si tratta di un fuocherello, non di un incendio. Peraltro, come abbiamo spiegato, la rugiada è appunto uno dei simboli della masoneria e Bugnini aveva già fatto di tutto perché entrasse nel messale. Concludendo, figlioli cari, questa lunga chermesse che è iniziata lunedì scorso e questa sera si giunge a termine. Le novità della nuova edizione del messale non sono affatto innocue e si aggiungono a quelle già problematiche delle traduzioni e versioni del messale in lingua italiana del 73 sotto Paolo VI e del 1983 sotto Giovanni Paolo II. Essi dicono, quelli che gettano acqua sul fuoco, una cub, che non cambia nulla finché non si toccano le parole della consacrazione, ignorando, come ho detto all'inizio di questa catechesi conclusiva, che quelle parole sono comunque state già violate nel 1970, quando il promultis effundetur dell'edizio tipica è stato tradotto nella prima edizione italiana con versato per tutti. Così, a partire da domenica prossima, quanti continueranno ostinatamente e consapevolmente arrecarsi alla falsa messa della falsa Chiesa, in unione con il falso Papa, con un falso messale, pregando un falso Padre Nostro, timbreranno il cartellino di eretici dichiarati. Le novità, come ho dimostrato in queste sere, sono espressione del raduno di tutte le sensibilità ereticali, che nella stagione postconciliare circolavano liberamente già, ma che con vergoglio hanno finito col prevalere, gettando le masse cattoliche per lo più ignare nella totale apostasia della fede. Il Padre Nostro non si può cambiare, così come non si possono cambiare le parole della consacrazione e il testo normativo dei Vangeli. Vi è il neomodernismo, il neoarianesimo, il neoluteranesimo, il sincretismo panteista, vi è soprattutto l'anelito rivoluzionario, che dopo aver ridotto in macerie le società ostaggio del comunismo, dal 68 prova in tutti i modi a distruggere lo spirito cattolico. Beati noi, ecco la conclusione. Ora più che mai, che domenica prossima saremo in comunione con Papa Benedetto XVI celebrando la messa solenne, sacra di San Pio V. Noi che siamo tornati dopo il lungo esodo all'intergibile messa tradizionale, quella che è e resta la messa cattolica di sempre, molto più che vediamo lo sfacelo bizzarro e stravagante cui approda la falsa chiesa. Un grazie profondo per questo va anzitutto a Benedetto XVI che con il motu proprio su moru pontifico ha restituito a tutta la chiesa pagando di persona la messa vetusordo. Un secondo gesto di gratitudine lo rivolgiamo per questo ai circoli tradizionalisti, soprattutto lefevriani, che ora con gioia però devono accettare di condividere la messa tradizionale con tutto il popolo rimasto cattolico in unione con Papa Benedetto XVI. Ma soprattutto e infine il nostro grazie questa sera commosso e sentito va al titanico Monsignor Marcelle Fevre, solitario profeta e sofferto testimone dello sbando cui la riforma liturgica post conciliare in mano a una regia occulta di massoni avrebbe condotto la chiesa. Grazie però anche al popolo di Radio Domina ogni sera abbiamo avuto in diretta circa 1500-1400 persone e questo per me è stato un motivo in più per spendermi. Prima di darvi spazio per le telefonate volevo darvi notizia, una notizia piuttosto apparentemente bizzarra, che mi sono deciso a entrare anche in una piattaforma particolarmente insidiosa che si chiama TikTok, nella quale piattaforma TikTok operano un paio di sacerdoti bizzarri come Don Mauro Leonardi che diffondono simpaticamente l'eresia a proposito degli omosessuali, dell'unione contro natura, dei rapporti prematrimoniali, delle coppie di fatto. E allora siccome io sono inesauribile quanto loro, nonostante i miei mezzi non siano a disposizione, con lo stile proprio che è giovanile, scherzoso e bizzarro, non so che molti di voi non lo condividerete, ma vi prego anche in questo di lasciarmi fare il pastore, ho deciso dopo lunga preghiera e attenta meditazione di entrare anch'io in questo sistema TikTok, in questo sistema TikTok, spero che lo conosciate, perché piano piano voglio fare numeri anche lì, soprattutto con i giovani, e portare il verbo vero della sana dottrina cattolica, naturalmente, ecco già qualcuno scrive no TikTok, no, Paolo è andato figlioli cari nell'aeropago di Atene, e io già me lo aspettavo, perché c'ho un paio di figli spirituali che sono sempre lì, lasciatemi fare il pastore, va bene? Lasciatemi fare il pastore, il pastore si espone per le pecore, e ho altre pecore, dice Gesù, che non sono di queste vile, anche queste io devo radunare, perché ci sia un solo pastore, un solo gregge con un solo pastore, non accetto, dopo aver pregato, di lasciare la piattaforma di TikTok in mano all'eretico e abusivo Don Mauro Leonardi, anche se costa un po' di sacrificio, vado, come Paolo nell'aeropago, a TikTok per annunciare scherzosamente, se è il caso, il Vangelo. Quindi alla fine, per sconvolgere ancora di più quelli che rimangono interdetti e che non capiscono evidentemente che al pastore bisogna lasciar fare il pastore, vi mostro il primo video che ho fatto, intanto però c'è spazio, se volete, per le vostre telefonate. Pronto? Sì, buonasera, Don Minutella. Sì, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Senta, volevo semplicemente, molto brevemente, tornare un attimino sul Padre Nostro. Io l'ho sempre visto in questo modo, cioè il Padre Nostro determina praticamente la linea di demarcazione tra il Vente Testamento e il Nuovo Testamento. Certo, certo. Dobbiamo non dimenticare chi ce lo ha insegnato, cioè Gesù, che è vero Dio e vero uomo. Allora, come tale, prendo in considerazione il Dio del Vente Testamento, che può essere anche il castigatore, che mette alla prova, però siccome lo è stato castigatore e ha messo alla prova, cioè è sempre lui, cioè non è detto che non lo possa essere anche in futuro, quindi bisogna pregarlo affinché non lo sia, cioè manda al diluvio, mette alla prova. E la preghiera del Padre Nostro è proprio questa, cioè ha un significato quasi programmatico, riprogrammatico del Dio. Infatti si usa l'imperativo, fai questo, fai quest'altro. Esatto. E quindi, in particolare, per quanto riguarda rimetti a noi nostri debili come noi rimettiamo ai nostri debitori, questa affermazione, svolta con l'imperativo, ha un criterio che regola il giudizio, cioè dà delle disposizioni su un criterio di valutazione, cioè come devi rimettere a noi i nostri debili, rimetti a noi i nostri debili, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. In sintesi, se uno nella vita ha fatto l'usuraio e ha chiesto fino all'ultimo centesimo ai propri debitori, sarà con la stessa moneta ribagata. Esatto, esattamente, grazie, grazie di questo tuo intervento. Anche dire rimetti a noi i nostri debili come anche noi, i fiatori rimetti i debili, li rimettiamo anche noi, ma non ci sono quei debili di valutazione, invece levando quell'anche, che mi pare che non ha fatto lei accenna a questo anche che sta nel padre nostro nuovo, praticamente diventa una condotta indifferente. Tu rimetti... Sì, sì, ma è così. Anche noi rimettiamo i nostri. Esattamente. Grazie, grazie di cuore per il tuo ottimo intervento. È proprio così, assolutamente non c'è nulla d'altro da aggiungere, se no che appunto siamo in presenza di una manipolazione ideologica del padre nostro, non c'è dubbio su questo. Anche perché quando Gesù ci dice di rivolgerci al padre con le sue stesse parole, cioè il padre nostro sgorga dal cuore di Cristo, non si tocca e solo una direzione anticristica può essersi arrogato il diritto di cambiare, perché non è un problema ormai più di traduzione, ma di cambiamento, di cambiamento vero e proprio. Gesù deve avere avuto le sue ragioni per dire non ci indurre in tentazioni rivolte a Dio, perché come spiegavamo l'altra sera, peirasmos, che è ciò che accompagna il verbo all'aurista Isenenchies in greco, indica la prova, la tentazione come esame, tutti dobbiamo passare dall'esame di Dio, come dice il Salmo, Signore ci hai fatto passare per l'acqua e il fuoco ma poi ci hai dato sollievo, la prova santifica, la prova purifica, la prova rinnova, fortifica la prova, i giusti sono stati messi tutti alla prova, i profeti, i patriarchi, Giobbe e lo stesso nostro Signore Gesù Cristo ha conosciuto nel Getsemane il Pairasmos, non possiamo pretendere di cambiare questo modo di agire di Dio, farlo è stata una tentazione luciferina, il Padre nostro di domenica prossima è di Lucifero, non più di Gesù Cristo, lo dico così come la penso. Pronto? Pronto? Sì, pronto, sono Alessandro dalla terra di San Piovecimo. Ecco, sempre si è lodato Alessandro, prego. Ecco, l'avevo inviato un messaggio ieri sera specificando una piccola ricerca che ho fatto così un po' abbracciata, circa l'esecutore di quegli scempi di disegni che ha... Ecco, bravo, bravo, dici un po', dici un po', Alessandro. Certo, Mimmo Paladino, che è... Come, come? Mimmo Paladino. Mimmo? Mimmo? Mimmo Paladino. È del 48, perciò ha 72 anni, mi pare di aver visto in Google, ed è colui che ha dipinto un capretto con le gambe spezzate nella chiesa satanica intitolata San Padre Pio, giù a Petrancini. Ecco, vedi che tutto ritorna. Tutta una correlazione di satanisti e massoni. E poi per, così, per buttare un po' in toni un po' bucolici. Ma tutti i messali che non verranno più utilizzati, visto che Bergoglio parla tanto di ecologismo. Dove vanno a finire poi? Bravissimo Alessandro. No, perché qui si parla... Sai che io ho avuto un colloquio con il mio parroco, ex parroco, che ha 82 anni, il professore è stato insegnato di latino, filosofia greco, antico, e quando ho detto che il verbo, appunto, è che eseneques, è il ferro, che significa appunto moto a luogo indurrea, non mi ha più dato retta perché non poteva contraddire quello che mi ha insegnato. Perciò anche lì, anche se io fossi ateo e andassi a analizzare il testo, è da scempi, è da stupidi affermare che quel verbo può anche significare abbandonare. È una iniziozia pura. Certo, certo, certo. E qui siamo davanti a persone sataniche, proprio hanno il demonio dentro. Certo, certo, certo. Grazie Alessandro, ottimo, sempre opportuno il tuo intervento. Un saluto a San Pio X, eh. Ce l'ho fatto. Tanta benedizione, tanta benedizione. Grazie a te, sempre opportuni i tuoi interventi, è proprio così, a parte il fatto, come appunto viene detto, che il termine, la traduzione, abbandonare non c'è nel testo greco, mi piace molto questo problema ecologico che si pone con lo smaltimento di tutti i messali che non sono più poi disponibili per la messa. Pronto? Veramente una bella battuta. Pronto? Padre, buonasera, sono Tommaso da Perugia. Prego, Tommaso, sia lodato Gesù Cristo. Dunque, sì, anche io mi sono informato sull'artista. Ecco. Lui chi? Lui chi? Eh, Padalino. L'artista, diciamo l'artista. L'artista, ecco. Dunque, dice Padalino, al centro, nella prima tavola c'è il concetto di germogliare, c'è un albero, albero che richiama il tempo. Quindi c'è il concetto di germogliare, afferma Padalino, ho inteso evocare un mondo che non può dirsi definitivo, che di volta in volta si apre e si rinnova, che contiene sempre qualcosa di sorprendente. Questa è la dichiarazione più palese che il messale è legato al mondo della natura, al mondo dell'immanente, al mondo... Vedi, vedi un poco. E tutto si capisce, vedi? ...proietta a San Pietro il giorno dell'Immacolata. Ecco, ecco. E a me viene da fare un parallelo che poi è sempre quello, ma siccome oggi ho sentito scivolando accanto a un televisore, perché io non ne ho da dieci anni, ma quando si è in casa ad altri, che la CEI è disponibile a trattare con il governo per la faccia del ministro Boccia, ad anticipare la messa a Natalizia, perché non è un'eresia che Cristo possa nascere tre ore prima per far piacere al coprifuoco di questi bui voli, è chiaro che in quella tavola con le sei ombre, che per me sono delle lame, sono coltelli con cui stanno cercando di trafiggere il corpo della Chiesa, così come questi disfuni del potere immanente stanno cercando parallelamente, attraverso il pretesto del Covid, cioè di un'influenza, così come Paladino, attraverso il pretesto dell'arte contemporanea, stanno cercando di trafiggere gli uni il corpo della Chiesa, gli altri il corpo laico della Costituzione. Sì, esattamente. Grazie carissimo Tommaso, giusto? Sì, Tommaso. Ecco, Dio ti benedica, Santa Notte. Sì, io vi ringrazio, queste sono opportune integrazioni, io non sapevo chi fosse l'autore, non ho avuto il tempo di poter verificare chi fosse, quindi vi ringrazio di questi ulteriori dettagli che confermano i sospetti che nutriamo. Pronto? Pronto? S'è rodato Gesù Cristo? Sempre s'è rodato Domenico Tella, sono Pietro da Padova. Prego Pietro da Padova. Non ho potuto seguire tutta la catechesi di questa sera, quindi chiedo scusa se magari faccio una domanda su cui lei ha già parlato. Lei ha sentito per caso Padre Livio, mi pare, ieri, in un commento che ha fatto al messaggio della Madonna di mezz'ora, del 25. No, non ascolto Padre Livio né sul commento perché questi messaggi non mi convincono. Ecco, no, 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 infatti non è sui messaggi. Dimmi pure. Ha fatto un commento sul Padre Nostro, Ambasan, e ha detto, anzi no, su Gloria, scusi. Diceva, mentendo clamorosamente, fa sì, sì, ma fa benissimo questa traduzione perché è un ritorno al testo originale greco, fa, dicendo che nel Gloria di Luca ci sarebbe scritto a Gapetoi, quindi gli uomini amati dal Signore, perché quello che noi diciamo, cioè, invece, eudochia, sinossa, è rabbantata da trittata. Eh sì, sì. Padre Livio qualche volta quando è in difficoltà fa così perché non sa cosa rispondere e quindi si inventa la soluzione. Però capisci che mi ha lasciato davvero all'inizio perché è assurdo, cioè, ha detto una cosa che è totalmente inesatta, così è veramente Ambasan, come se fosse una leggerezza e volevo segnalarle questa cosa perché, peraltro, lei aveva già detto, guardate, che diranno cose assurde pur di far passare tutto quanto sotto silenzio, effettivamente è vero perché ci ha detto chiaramente una falsità e mi spiace per lui. Certo, grazie, grazie del tuo intervento. Non ho seguito, come il nostro amico dice, questo commento di Padre Livio e i messaggi della Madonna di Meggiugorie, perché questi messaggi che arrivano il 25, devo essere molto sincero, li guardo, poi li guardo per vedere che cosa dicono, ma rimango interdetto, un po' molto perplesso. Padre Livio però purtroppo molte volte, quando viene posto con le spalle al muro, anziché dire le cose come stanno, si inventa la soluzione. Io ho paura, ho paura perché vedo che è un uomo di 80 anni che ha fatto un gran bene, ho paura per me stesso, dico alla Madonna, dico alla Madonna proteggici, dacci il dono della perseveranza finale perché vedo Padre Livio allo sbando. Padre Livio e Radio Maria, da quando stanno in unione con il falso Papa, sono completamente allo sbando. L'ultima telefonata. Pronto? Pronto, non dormi Nutella, sono Diego, sempre da Padova. Ecco, stasera vince Padova, eh. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Lei ha detto poco fa che aveva intenzione di scrivere un piccolo opuscolo che riguardano tutte queste catechesi che ha fatto in questa settimana. Sì. E mi era venuta l'idea che, come suggerimento, che magari le potesse farlo in forma di domanda e risposta. Ecco, è anche una buona idea. Come se gliele facesse però queste domande gente che non ha mai sentito le sue catechesi. Certo, certo. Non so se mi spiego. Sì, chiarissimo. È il metodo di San Pio X nel catechismo. Eh, esatto. Sì, sì, sì. Va bene, lo tengo presente, senz'altro, Diego. Grazie. Ecco, Dio ti benedica con tutto il cuore, Santa Notte. Bene, miei cari, allora con questa catechesi si conclude il ciclo di riflessioni sulla stravaganti novità del Messale Romano che entrerà ai noi in vigore per la falsa chiesa bergoiana domenica prossima e che, con ogni evidenza, come abbiamo dimostrato, è un ulteriore segno di una chiesa massonica satanica che niente ha fatto più ormai la chiesa cattolica. Vi ringrazio di aver seguito con attenzione questi incontri. Spero di fare appunto una sintesi togliendo le ridondanze che nel parlare emergono. Preghiamo molto la Madonna perché ci aiuti. Visto che molti vi siete interessati di precisare la questione su TikTok, sapevo che avrei suscitato un vespaio di difficoltà. So, so che piattaforma è, ma ripeto, lasciatemi fare il pastore, qui funziona come con la stessa cosa della simpatia che io esprimo verso il mondo omosessuale e avete visto che poi però le risposte arrivano e non vado nello specifico, chi può capisca. L'importante è precisare la sana dottrina. Paolo va nell'aeropago, che era un luogo impenetrabile, e noi dobbiamo usare, come diceva Giovanni Paolo II, i nuovi aeropaghi per annunziare Gesù Cristo. E siccome qualche prete va lì per dire il falso sulla dottrina, con lo stesso metodo io non ho preoccupazione ad assumere il metodo allegro. Chi mi sta accanto sa, che so essere anche mattacchione, che so essere anche un po' bizzarro, e sono disposto a farlo, come dice Paolo, San Paolo, purtroppo è che tanti devono dettarleggio ormai anche ai preti. San Paolo diceva che mi faccio tutto a tutti, pur di guadagnare ad ogni costo qualcuno. Quindi non vi scandalizzate, se non volete non andate a guardare queste brevi incursioni del sottoscritto su TikTok, ma chi le va a guardare tenga presente questa parola di San Paolo Apostolo. Mi sono fatto tutto a tutti per conquistare ad ogni costo qualcuno. Siccome Don Mauro Leonardo va lì a dire che i ghesi possono amare come vogliono, che le unioni di fatto sono come le unioni matrimoniali e altra roba banale del genere, allora io sapendo di doverle prendere, andrò pure io lì piano piano lentamente per esibire la sana dottrina cattolica. Bene, miei cari, allora vi auguro una notte serena e un riposo tranquillo. Domani non ci si vede proprio, domani non ci si vede proprio. Ecco, vi do un tempo di pausa e vi do la Santa Benedizione invitandovi a pregare per me perché ne ho sempre veramente tanto bisogno che la Madonna mi aiuti. Benedicate vos, Onnipotens Deus, Pater et Filius, Espiritus Santus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.